ciao a tutti ragazzi bentornati qui in un nuovo video di crafting perché oggi andiamo a costruire con materiali semplici andiamo a costruire una torretta per portare gli hard disk fatto un calcolo ci stanno quattro hard disk di questi qua piccolini e sottili così ce ne stanno quattro oppure ce ne stanno due di questi qua alti no scusate no sbagliato sbagliato hard disk ce ne stanno quattro di questi alti oppure ce ne stanno otto di questi qua sottili di questi qua sottili piccolini che come vedete praticamente la metà mentre allora innanzitutto vi parlo mentre si asciuga prendiamo già tutte le altre misure per tagliare la barra di asciugare bene il lato perché sennò dopo si incollano tra lì no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Visto che devo fare... intanto ne faccio solo uno, perché tanto sono due ordisca, ma comunque è una cosa espansibile, cioè prendo una barretta filettata del 4, sì? Una barretta filettata del 4 e faccio passare attraverso quella barretta filettata, attraverso la gamba, faccio una gambetta questa, faccio foro passante del filetto e così verrebbe così. Molto carino, adesso andiamo ad avvitare le gambe al loro posto, devo ritrovarla perché... Come vedete si avvita alla perfezione, abbiamo fatto tutto alla precisione, è una cosa pazzesca. Eccolo qua, la prima andata, la basetta, la prima basetta è pronta. Per adesso è questo, vedo se... intanto finché ho solo... visto che ho solo due harddisk, per adesso tengo solo questi due qua, li terrò qua così. E poi anche sotto ce ne sta un altro qua sotto ce ne sta, ci stanno altri due qua sotto, quindi però per adesso, visto che ho solo questi due, li terrò qua così. Mi piace, mi piace veramente, è molto carino, casomai più avanti gli darò un'altra mano di Prime qua sopra, ma per adesso non serve perché mi va bene così. Questo è un po' una cosetta carina come supporto per gli harddisk, un tavolino o per qualsiasi cosa che volete metterci sopra, carino, a poco prezzo, perché non ho speso niente, c'è una barretta di alluminio, il resto c'avevo tutto in casa. Vi ricordo che questo video finisce qui, vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like se vi è piaciuto e se avete dei commenti tipo fai, che ne so, costruire qualcos'altro. Sempre dei tavolini, oppure fai una sceglia, fai qualcosa in miniatura, io mi organizzo e ci proverò. Vi lascio con questo progetto qua. Salute le trizzate, ciao!